Mozioni di indirizzo per conferire cittadinanze onorarie, mozioni per intestare bene confiscate alla mafia. Le iniziative sono di consiglieri comunali di Alcamo che forse per motivi enagrafici e quindi di età probabilmente per qualche svista non prendono in seria considerazione cittadini alcamesi che hanno dato lustro alla città, che hanno svolto importanti ruoli politici, che per grandezza culturale hanno avuto rapporti e amicizie con artisti e politici di tutto il mondo, che già una trentina di anni fa per primi hanno capito che bisognava intestare rapporti con i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Eppure questi personaggi ad Alcamo continuano ad essere dimenticati, a non avere un'importante opera dedicata per ricordare ai posteri il loro ruolo attivo nella società italiana. E mentre fioriscono le emozioni di indirizzo, continua ad essere dimenticato un grande personaggio quale è stato Ludovico Corrao. L'unica cosa a lui intestata è la sezione di lega ambiente di Alcamo. Per il resto il silenzio è più totale. Nessuna opera che lo ricordi agli alcamesi. Si parlò qualche anno fa di intestagli la via che porta in cima a Monte Bonifato, dove Corrao abitò per tantissimi anni. Quella villa era un cenacolo di artisti, poeti russi, attori, una cantante Noa, allora sconosciuta, ma che in lei Corrao vedeva tanto talento, giornalisti, scrittori e tanto altro in quella villa sul Bonifato dove spiccavano le opere di consagra. Ludovico Corrao è stato sindaco di Alcamo, appena ventenne assessore regionale ai lavori pubblici, marciò assieme a Danilo Dolce ed è stato l'avvocato che difese Franca Viola e Serafina Battaglia, la prima donna che accusò due mafiosi di averlo ucciso il marito e il figlio. E poi il condottiero della rinascita del Belice, dove è stato per lunghi anni sindaco di Gibellina e dove continuano con successo le Orestiade. Tra le sue ultime iniziative, portate avanti con successo con l'allora vice sindaco Vincenzo Lombardo, l'acquisto dell'ex collegio dei Gesuiti, anche insieme Lombardo, è caduto nel dimenticatoio. Figure entrambe di altissimo spessore, ma dimenticate da varie amministrazioni comunali. Eppure oggi le mozioni di indirizzo non vengono certo risparmiate.